Un'inversione di tendenza nella gestione amministrativa della città. E' questa la chiave di lettura che il sindaco di Nocera Inferiore ha voluto dare sui primi mesi di attività nel tradizionale scambio d'auri con i rappresentanti degli organi di informazione questa mattina a Palazzo di Città. Una rapida carrellata sul lavoro svolto destinato a gettare le basi per il 2013, l'arricchimento delle funzioni della multiservizi, il discorso tutto aperto sul post seta, la rivisitazione dell'apparato burocratico della Casa Comunale, confermate le quattro competenze dirigenziali, passano invece a 5, massimo 8, le 16 aree, l'ultima azione del Palazzetto dello Sport come biglietto da visita, il rafforzamento del confronto sulla riunificazione delle due Nocera, l'incentivazione dello spirito di programmazione negoziata, tutto per un'amministrazione, ha detto Maglio Torquato, che passerà comunque alla storia per la valenza che saprà assumere nella ricucitura socio-economica della città di Nocera inferiore. Onestamente posso dire anche con un certo orgoglio da primo cittadino di Nocera che la città risponde bene a quella che è anche un momento di grandissima difficoltà, notoria difficoltà. Nocera è una città che sta ritrovando veramente il proprio orgoglio e la propria dignità dopo due anni di commissariamento che sono stati imposti in maniera scellerata da chi magari oggi vorrebbe pontificare dai banchi dell'opposizione. Io lo capisco dal punto di vista politico, non lo accetto dal punto di vista né amministrativo né come cittadino di questa comunità, perché due anni di commissariamento ci hanno fortemente penalizzato. Nocera è una città che si presenta, anche oggi come biglietto da visita con un riadobbo natalizio del quale ringraziamo non solo l'apparato comunale ma anche le attività commerciali che hanno contribuito in maniera determinante. Si presenta con un'idea di se stessa migliore e la coincidenza anche simbolica del titolo di città speriamo sia foriera di un futuro ancora migliore per il quale noi chiediamo a tutti i nocerini non solo di resistere ma anche di rilanciare il proprio impegno di cittadini e di farlo a partire dalle piccole cose, contribuire a mantenere pulita la propria città, a lavorare per la propria comunità, a non abbattersi nei momenti di difficoltà, a capire che nonostante i sacrifici che noi siamo costretti a dover chiedere per far fronte ad una situazione che abbiamo trovato è un passo per andare avanti verso il meglio.